Fortunatamente oggi ho continuato a giocare il cinema e ho visto assieme pure il film, un po' così. No, oggi ti chiedi che lei riesco a fare, ora provo pure io a farlo. E io sono giusto in un cinema proprio a San Giorgio e a Fremato. Allora, ci chiedi quando riesco a fare una cosa così bella. Fortuna nostra, del nostro lavoro, è proprio che uno, cioè qualunque imbecito può farla tutta. Quella? Si, la guardavo e mi innamoravo. La sovviste lì davanti così, no? La guardavo e non mi usciva neanche una parola.